Sono tante le notizie di questa settimana con Google protagonista che entra nel mercato italiano degli hotel con un progetto esclusivo attualmente solo in Italia e poi abbiamo la proposta per superare i cookie, la faccenda di TikTok, le grandi cose che stanno accadendo nei social network, tante notizie per i professionisti, poi le segnalazioni del gruppo Telegram di Fast Forward, tanto, veramente, veramente tanto, ma partiamo dalla notizia più importante forse, la notizia di apertura, quella che ho deciso di dedicare ogni volta, quella del titolo. Farò così, la prima notizia sarà quella del titolo e allora partiamo con internet che per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria in Italia batte la televisione. Lo diciamo subito, i dati sono parziali e ovviamente non sono ancora definitivi, c'è il mese di dicembre, però siamo lì, si parla di questo sorpasso, è importante perché parliamo di dati veramente forti e quindi i primi 11 mesi di questo 2020 ci hanno portato questa sorpresa, 10 milioni di euro in più per internet rispetto alla televisione, di raccolta pubblicitaria. I dati sono 6,9 miliardi di euro di totale mercato, il 42% lo prende internet, il 41% la televisione. Ovviamente è interessante questo dato, è da approfondire, aspetteremo tutte le varie valutazioni, però incominciamo a vedere un internet sempre più presente, questo non significa che internet è contro la tv, ma lavorano ovviamente insieme. C'è un aspetto importante, andiamo subito in una delle nuove grafiche di fast forward, visto che poi ne parliamo alla fine, parlo dei feedback per allargare, insomma, ne parliamo, però la cosa interessante sono questi 2,5 miliardi di euro realizzati solo da Google e Facebook, insomma, le grandi aziende capitalizzano tantissimo su internet. E allora, diciamo che sicuramente è un aspetto importante, è un aspetto da considerare, i grandi fanno di più, ma la cosa molto che avrei voluto chiedere al Sole243, tutti quanti è, ma poi, ok, questo confronto, facciamo anche il confronto delle tasse, sarebbe interessante questo confronto delle tasse. Ok, 42% internet, quante di queste rimangono in Italia come tasse? E invece la tv quanto rimangono in Italia? Così, giusto per, perché credo che sia importante. Importante parlarne, ma una cosa che volevo dire, volevo mettere in evidenza, è che c'è sempre un passaggio di informazioni tra internet e la televisione, non c'è un contro. E ora abbiamo visto che in Italia stanno arrivando le prime piattaforme pubblicitarie delle tv, come quella di Sky, abbiamo visto negli anni passati che YouTube è finita, perché ha preso dei diritti nelle televisioni, e attraverso YouTube si può fare pubblicità in tv. Ma questo è sempre un grande incontro, non uno scontro. Un dato molto curioso, il sito chess.com, dove si gioca a scacchi, ha raddoppiato il traffico grazie alla serie tv, la regina di scacchi, quindi stiamo parlando di una grande, una grande unione. Chi non ha mai provato a fare la catapulta infernale dopo aver visto Olly e Benji, oppure ha provato a prendere la traversa e poi fare la rovesciata come faceva Roberto, oppure guardando Mile e Shiro, chi non ha mai fatto, gridato Attack, o tante altre, la Kamehameha di Goku, no? Insomma, ci sono state cose positive e cose negative, però diciamo in qualche modo che non dobbiamo mai vedere una cosa contro l'altra, assolutamente, questo l'abbiamo imparato per chi è SEO, lo imparava nei primi anni della SEO, che si vedeva SEO contro ADV, non esiste questa cosa. È importante però contestualizzare sempre i numeri, e vedere quelle che sono le opportunità, perché oggi non esiste più semplicemente io faccio una pubblicità di là, e la faccio anche di qua, e la faccio, o da una parte o dall'altra, ma la faccio dappertutto, quindi l'abbiamo visto, lo ripetiamo, la piattaforma pubblicitaria di Sky e tante altre che arriveranno ormai, si pensa solo a riuscire a vedere come si entra in tutte le varie piattaforme. Ma passiamo all'altra parte del nostro TG, ci saranno tante novità, tante segnalazioni, tante cose utili per i professionisti, la nerdata, come sempre, come sempre, poi qualcosa sui feedback, ma passiamo alla parte della privacy e dell'advertising. E qui Filippo Trocca sul connect.gt ha lanciato la bomba, è iniziata la rivoluzione ADV che cambierà un po' il tutto, lui dice, per non cambiare nulla. Che cosa sta succedendo? È importante. Poi si parla su connect.gt con Martino Mosna, tutta una serie di informazioni, secondo me, molto utili, un dibattito, è uno scambio interessante. Io lo consiglio, consiglio proprio di leggere questo scambio, perché vi porta sicuramente in una dimensione molto, molto importante. C'è il post poi di Google che, anche qui da leggere, è utile, ma cosa sta succedendo? Allora, Google ha presentato una proposta, come tanti stanno presentando le loro proposte, questa proposta all'interno dello Yab, per superare i cookie con la privacy sandbox, alla quale a questa proposta hanno partecipato anche altri, come per esempio Facebook. Quindi non è una proposta, diciamo così, che arriva solo da Google, perché si ha questa cosa che Google e il mostro mangia tutto, ed è giusto. E anche in questo caso è ovvio che sia Google a portare delle proposte, come così lo faranno tanti altri, come sarà per Apple, come saranno per tanti altri browser. Questo ci porterà sicuramente ad un'altra parte di internet. Ne parleremo sicuramente, che bella questa doppia visione, il 2 febbraio alle ore 18. Attivate i promemoria, potete impostare i promemoria, così avete la possibilità che poi vi arrivi, insomma, la notifica. Faremo una live, ci sarò io, poi Marco Quadrella, Filippo Trocca, Enrico Pavanne, Marco Cilia, sulla Business Analytics del 2021, dati, privacy, Google Analytics 4, tutte queste cose qua saranno approfondite, quindi mi raccomando, non perdetevi quella che sarà una grande live. Ma Google sta lottando su vari fronti, è una notizia che volevo riportarvi, è tutto il casino che sta succedendo in Australia. In Australia non sta succedendo come il resto del mondo, che Google con News Showcase sta iniziando a dare dei soldi agli editori, li paga, mette le notizie in un certo punto, è tutta una serie di cose che abbiamo approfondito e magari ci facciamo un altro approfondimento. Ma succede di più, perché l'Australia gli dice no, quei soldi non sono sufficienti. E in un certo senso, guardate che l'Australia non ha tutti i torti, perché quello che farà Google, dal mio punto di vista, che non ci sta capendo niente nessuno, andrà a prendere questi contenuti, li distribuirà, guardate che non sarà una cosa così positiva, ecco, se non la guardiamo bene. Io sicuramente appena avrò la possibilità di vedere tutto quello che accade, vi farò una puntata su questo. Google risponde al governo australiano con otto fatti per quanto riguarda quello che sta accadendo. Vi consiglio la lettura, io credo che sia molto importante aggiornarsi su quello che sta avvenendo, su quello che sta avvenendo in Australia, perché riguarda e riguarderà un po' tutto il mondo. Ora, stiamo parlando dell'Australia, e va bene, ma Google si è accorredata in Francia, e va bene, ma non sempre a Google, diciamo, andrà così tanto bene, quindi mi raccomando, aggiorniamoci. Infatti la BBC, una delle domande che si fa è, ma Google potrebbe davvero lasciare l'Australia? Perché non è così scontato. Ma ora passiamo alla terza parte del nostro telegiornale, Google Tech SEO. E qui davvero tante tante segnalazioni. Innanzitutto il nuovo redesign della Search Mobile di Google, tutto più stondato, più bello, più carino, è importante secondo me andare a guardare cosa stanno facendo. Cosa cambierà per la SEO? Assolutamente niente. Luca Bove segnala che i prezzi dei carburanti sono arrivati su Google Maps in Italia, e ricorda che in America ci sono dal 2015, io non l'avevo mai visto, sono rimasto sorpreso, per fortuna abbiamo Luca che ci aggiorna sempre. Dopodiché, l'avevo visto un test tanto tempo fa sui multipli risultati di news, quando compaiono, per esempio, tu cerchi una notizia, ti compare notizie generiche, poi ti compare notizie dalla Lombardia. Questi doppi caroselli delle notizie stanno diventando molto frequenti, e in effetti, io l'avevo visto tempo fa, ma è diventata una notizia ufficiale. Questo diventa molto importante per chi produce notizie, perché la visibilità delle news sta sempre di più aumentando, anche se dai dati che abbiamo condiviso su connect.gt, pare che sia Google Discover a veicolare molto, molto più traffico rispetto a Google News. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Da Riccardo Mare, se invece ho scoperto che all'interno dei risultati di ricerca di Google stanno arrivando tutta una serie di dettagli sui prezzi dei prodotti, quindi aggiornatevi su schema.org e tutte quelle che sono le cose che potete fare, non solo abbiamo il range di prezzo, quindi questo prodotto lo trovi da 100 dollari a 120 dollari, ma addirittura quando cala ti dice questo prezzo è attualmente il migliore di sempre, una cosa del genere, con tutte le informazioni su quelle che sono praticamente gli andamenti di prezzo. Google sempre di più mostra omaggio a tutto, come diciamo, da tanto tempo, quindi importante. Per quanto riguarda comunque le segnalazioni dell'advertising, perché non c'è solo la SEO, ormai è tutto unito, segnalo questo articolo che ho scoperto da Fabio Antichi, Google Ads, come scrivere titoli più lunghi di 30 caratteri, fino a 37. Importante questo articolo, mi sembra utile, io non sono un grande esperto e per questo motivo sto organizzando una serie di live anche su Google Ads. Su Fast Forward vi porterò sempre più professionisti che parlano di argomenti tecnici, di argomenti, anche se non entriamo nel tecnico, ma comunque di visione, che sono molto importanti. E quindi stiamo facendo quella su Analytics, ma faremo una nuova versione per voice e podcast, spero di fare Google Ads, spero di fare SEO tecnica, voglio entrare sempre di più in quello che sono le cose importanti per i professionisti. E infine, notizia importante per quanto riguarda l'Italia, Google lancia Hotel Insights in Italia, in anteprima. Siamo i primi a provare questa cosa. Io direi anche grazie al cavolo. Siamo uno dei paesi con, probabilmente per quanto riguarda gli hotel e le strutture legittive, con il territorio più sviluppato che c'è, con tutta una serie di cose. Quindi, ok, non lo fa solo perché, insomma, perché sta passando una notizia come... Sì, Google si sta sforzando e lo ringraziamo grandissima, però anche noi abbiamo i nostri meriti. Non è che, insomma, non lo fa solo per beneficenza questa cosa. Siamo l'Italia, cavolo. Non è che siamo... Insomma, ci siamo capiti. Non lo fa da sola, c'è con industriali alberghi, federal alberghi, federal turismo, Enit, Mibact, insomma, è un qualcosa di importante. Vi consiglio di aggiornarvi su questa cosa perché Google nel settore del turismo sta facendo tante tante cose da sempre, lo diciamo, con Luca, con Luca Bove, con tutti gli altri. Vi consiglio questa piattaforma di guardare l'Hotel Insight, una piattaforma dove vi darà tutta una serie di informazioni e risorse. Sì, sicuramente ci sarà la formazione, ci saranno tutta una serie di faccende e credo che sia qualcosa di importante per aggiornarci, per vedere quello che sta facendo e vi segnalo anche che ho rilasciato un'intervista per Slope.it, SEO per Hotel con Giorgio Taverniti e il titolo ve la trovate sempre in descrizione come tutte le cose. Abbiamo parlato della SEO per l'Hotel se vi interessa questo tema credo che sia qualcosa di importante ma è arrivato il momento di entrare nel classico angolo del futuro al quale vorrei dare una grafica che non riesco a dare ma prima o poi la darò come quando faccio il bianco e nero che faccio un po' l'internos le cose internos che non si dovrebbero ascoltare. Allora, questa storia di Google degli hotel per me e per tutte le strutture ricettive tempo fa su Spunto di Marco Quadrella ho parlato qui su Fast Forward di quando con Nest all'interno degli hotel Google riesce a gestire anche le persone dopo la prenotazione per fornire informazioni. Secondo me una delle cose che accadrà sugli hotel sapete che c'è la prenotazione eccetera eccetera ma sarà proprio questo sistema industrializzato di prenotazione da parte di Google dove lo potrà fare? Questo perché tutto l'apparato è l'azienda Google e Alphabet alla quale fa parte si stanno muovendo così lo vediamo nel mondo delle notizie il parallelo di Google News Showcase probabilmente avverrà anche per gli hotel questo è probabilmente un primo tentativo quindi credo che sia una cosa importante da tenere in considerazione e da guardare sempre quello che fa Google ma per quanto riguarda la parte Google ho delle segnalazioni delle cose degne di nota che voglio condividere con voi che sono front-end performance checklist 2021 condivisa se non sbaglio nella newsletter di Aleida Solis l'ho scoperta lì con una serie di incredibili lingue inglese suggerimenti che vi consiglio per chi conosce l'inglese di andare a studiare poi vi consiglio questa notizia di Osmani che tutte praticamente il performance a HUD viene integrato direttamente in Chrome Core Web Vitals prima usavamo le estensioni eccetera eccetera i dati incominciano ad apparire direttamente in Chrome ed è un bel aggiornamento e l'altra cosa che voglio segnalarvi è questa qui questa qui ok la guida tecnica a Lighthouse che sta arrivando alla versione 7 questa è valida sia per la 6 che per la 7 di Jamie Indigo che è aggiornata con tutte le cose molto importanti della SEO vi consiglio sicuramente di andare a seguirla e ad aggiornarvi su questa cosa perché è veramente qualcosa di per chi ha necessità di aggiornarsi è una guida molto completa su quello che è Lighthouse e credo che diventerà uno strumento fondamentale nel 2021 solo perché il Page Experience da maggio sarà un parametro fondamentale per tutti i SEO e allora andiamo in un'altra parte del nostro telegiornale social mondo social con tutta la svalangata delle segnalazioni incredibili del mondo dei social network e partiamo subito con la prima prima in assoluto una cosa che avrei voluto su YouTube ma bravi quelli di TikTok poi vediamo quando non sono bravi ma tanto qui su Fast Forward ve lo dico ormai da anni vi sarete anche stancati di sentirmi sbraitare nei confronti di TikTok e di tutti quelli che parlo della visibilità e che non si preoccupano vabbè comunque c'è capire allora TikTok funzionalità incredibile Q&A features la si può abilitare come creator le persone lasciano con un testo la domanda e si può rispondere sia con un video di risposta sia con live stream questo perché su TikTok c'è un'ondata di persone che fanno le video risposte e quindi è una notizia importante così come lo è il portale dei creator lanciato da TikTok per supportare i creator lo vedo che è in lingua inglese e quindi ci sono tutte le cose in lingua inglese con articoli credo che queste cose siano utili per tutti anche quelli che lo guardano con uno sguardo antropologico o di advertising o di qualsiasi altra cosa credo che sia da guardare e da capire perché vi fa comprendere il linguaggio che viene espresso su TikTok e a questo proposito vi consiglio un tutorial che è uscito di TikTok che spiega come fare l'advertising è molto base ed è forte perché chi fa advertising in altri luoghi dovrebbe aggiornarsi ve lo consiglio senza ombre di dubbio ma passiamo alle altre notizie segnalazioni importanti dal mondo dei social Jane che lancia Wong lancia sempre delle cose interessanti mostra come Spotify sta lavorando ad una user interface come TikTok su e giù su e giù destra e sinistra e credo che TikTok abbia cambiato un sacco di cose non credo che tutti debbano per forza seguire quelle che sono i nuovi standard possiamo dire così che abitano le persone però questa di Spotify per alcune zone potrebbe essere veramente utile poi sempre Spotify ha lanciato in esclusiva in UK e in Germania Podcast Ads ovvero finalmente si apre a quella che è l'advertising quindi importante per tutti quelli che fanno ADV riuscire ad aggiornarsi vi segnalo un articolo importante della BBC che va a certificare come il Covid ha portato questa questa rivoluzione del QR code che stava per morire dicono alcuni ed è tornato in auge grazie al Covid ne avremmo fatto volentieri a meno per quanto riguarda i video shorts di Facebook che sono stati lanciati invece ad agosto negli ultimi giorni Facebook li sta spingendo non solo con la iconcina ma anche con la possibilità di crearli facilmente Facebook sta spingendo veramente tanto e ha lanciato una nuova cosa legata agli eventi una nuova tipologia per gli eventi chiamato Classes appunto per le classi che è buono è buono da andare a controllare ma le notizie dal mondo dei social non finiscono qua ce ne abbiamo ancora 4-5 perché questa settimana è stata veramente di fuoco io I agree con tutti i cookie e roba varia Pinterest ha aggiunto per il make up la possibilità di vedere vedete sopra gli occhi il colore sopra gli occhi e con tutta la realtà aumentata che vi consente a secondo della pelle eccetera eccetera Pinterest sta spingendo tanto hanno messo anche le stories in alto nel feed degli utenti purtroppo le stories ormai ci sono date per tutto io mi sono anche stancato di sta cosa però vabbè quando un formato funziona poi si copia una vicenda a me questa cosa sapete che non piace YouTube diventa una progressive web app perché arrivano le notifiche sarà un'altra fonte di traffico via desktop probabilmente per tutti quelli per gli amanti delle notifiche desktop sarà qualcosa di buono però potrebbe è un primo secondo me passo utile da andare a guardare ultime due notizie dal mondo dei social più da un punto di vista potremmo chiamarlo politico e roba varia la Turchia ha bannato Twitter e Pinterest e anche Periscope che però Periscope sta chiudendo dal fare advertising ha sospeso la possibilità di fare advertising in Turchia perché il perché lo ha raccontato Alessandro Masala Shai su Breaking Italy la Turchia sta cercando di imporre ai social network il fatto che devono avere una sede all'interno della propria nazione perché poi così le può controllare può chiedere le cose eccetera eccetera deve essere assunto una persona turca e roba varia lo sappiamo come sfociano queste cose se non c'è un registro generale andare a fare in questi in questi posti cose di questo tipo sono veramente rischiose e invece ultima notizia nel mondo dei social questa l'oversight board ha accettato il caso Trump e quindi a breve il comitato per il controllo esterno di Facebook andrà a decretare se Facebook ha fatto bene o no vi ricordo magari andate a guardarlo sull'oversight board che questo è il secondo caso che prende in carico l'oversight board in modo ufficiale se andate nella sezione notizie vi dice questa cosa quindi a breve lo sapremo ma sono stati praticamente altri casi a dicembre hanno rilasciato una notizia con un'altra sbalangata di casi dove hanno preso delle decisioni finalmente questo Emte lo vediamo a partecipare a quelle che sono le decisioni di Facebook a dare un consiglio credo che sia utile anche solo andare a leggere cosa stanno facendo ed è tutto quello che ci diciamo da un po' di tempo ma ora insomma lo andremo ad approfondire non è sicuramente la soluzione questa perché questa è una soluzione che viene dall'interno invece tutto quello che è il meccanismo che sta avvenendo oggi in questi giorni sono le leggi che verranno imposte a breve in America e in Europa quindi però è sicuramente qualcosa della quale non dobbiamo aggiornarci ma arriviamo velocemente alla faccenda di TikTok allora 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 la faccenda di TikTok è una faccenda che ovviamente qua lo sapete sto trattando da tantissimi tantissimi anni non lo so due anni falso social media strategist ho chiuso proprio con con tutto quella che è la responsabilità il fatto di essere educatori il fatto tante cose insomma e quindi è un po' che seguo quello che c'è nel mondo di TikTok e mi fa sempre più paura lo sapete insomma però non voglio trattare quegli argomenti là non voglio trattare quegli argomenti là voglio semplicemente trattare un argomento divulgare un argomento perché non lo voglio trattare non è di mia competenza specifica c'è stato il video su di Matteo Flora con Guido Scorza che secondo me è bene da guardare dura 35 minuti quello che è lo mandate se non volete alla velocità a 1 lo mandate a 1.5 a 2 a me piace guardarlo a velocità normale se invece volete leggere c'è l'articolo su Agenda Digitale semplicemente alcune cose alcune cose non tutte che voglio riportare che sono importanti è 1 TikTok non è stato bloccato purtroppo c'è stato un sacco di disinformazione come sempre accade siamo abituati ma è arrivata anche all'estero nei giornali americani gli è stato detto che TikTok in Italia è stato bloccato TikTok non è stato bloccato il garante non può bloccare un sito un aspetto interessante però è questo in Europa tutta la faccenda del consenso dei dati viene data come età giusta per poter lasciare il consenso 16 anni in Europa e poi viene detto dall'Europa i singoli stati possono decidere un'altra fascia d'età che va da 13 a 16 in Italia è 14 quindi se TikTok tu accedi a TikTok e il consenso dei dati lo dai a 13 anni non verifichi l'età c'è un problema il garante della privacy l'avevamo detto qua su Fast Forward un mese fa aveva segnalato una serie di irregolarità per quanto riguarda i minori quindi va proprio in questa direzione cioè non è che la cosa importante da capire è che se il caso che stiamo vivendo in Italia è il caso che ha fatto accelerare determinate cose ma non è perché è successo quel fatto lì e soprattutto non si sta entrando nel merito di quel fatto ok questo è importante perché sembra la percezione che abbiamo in Italia che è successo quella cosa e ora lo stiamo bloccando non sta avvenendo questo giusto o sbagliato in questo caso voglio solo riportarvi la cosa e si sta parlando di verifica di età delle persone non di verifica di identità questo è importante se hai fatto una live su TikTok c'è una delle persone più piccole TikTok ve la blocca quindi TikTok ha gli algoritmi per andare a identificare determinate cose deve fare qualcosa non è che non può fare niente mi è piaciuto molto il fatto che Guido Scorza abbia messo l'accento lui lo sta mettendo sempre di più su una cosa che io condivido tantissimo e per la quale qui vi ho sfrantumato che è la seguente che queste grandi aziende hanno la capacità di fare qualcosa ma perché non devono farlo cioè non è un aspetto né tecnico né legale che viene prima di ogni cosa è un aspetto umano che viene prima di tutto che è un po' come ho chiuso due anni fa Social Media Strategies è un aspetto più umano a che fare con qualcos'altro quindi è molto importante e poi l'altra cosa che volevo portarvi qui di quella chiacchierata dell'articolo è che l'Italia sta facendo un procedimento d'urgenza altrimenti come garante non avrebbe potuto fare niente perché TikTok fa capo all'Europa in Irlanda e quindi per le classiche cose legate la privacy GDPR eccetera eccetera fa fede quella sede ma questo è un caso è un provvedimento d'urgenza se TikTok non risponde se poi si passerà a tutti quelli che sono le altre cose il massimo che può succedere è una multa del 4% del fatturato per ora ha sempre risposto ho detto guido scorso speriamo che insomma risponda la cosa sulla quale secondo me dovremmo iniziare a discutere sono le leggi a livello mondiale America Europa sicuramente in testa la capacità dei social di fare qualcosa perché si può fare qualcosa con gli algoritmi di intelligenza artificiale ma si può fare qualcosa sul device si può fare qualcosa sulle app si può fare qualcosa che verifichi l'età si possono fare miliardi di cose non è vero che non si può fare niente e poi ovviamente l'educazione stiamo vivendo un mondo che va ad una velocità incredibile non è colpa di nessuno non è che tanto la cosa che mi preme sottolineare sono tutti quei messaggi su facebook di soluzioni rapide roba varia raga non contiamo niente nessuno non cambieremo niente con un messaggio non cambieremo mai niente come singoli figuriamoci se qui non ci muoviamo come comunità a fare qualcosa non è che possiamo dicere ah vabbè vanno educati i genitori eh sì vabbè vuoi l'applauso e poi che cosa ce ne facciamo del tuo commento su facebook non ha alcun senso prima di passare alla nerdata e a quelle che sono invece poi la risorsa della settimana come sapete c'è se lo sapete le segnalazioni alle segnalazioni che vengono tantissime dal gruppo telegram ff community group entrateci entrateci il gruppo degli appassionati di fast forward dove mi segnalano un sacco di cose intanto parliamo discutiamo allora prima segnalazione per favore non chiamateli nativi digitali un articolo di attivissimo del 2013 attuale 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 da leggere poi come il web è diventato illegibile di wired che ora è pieno di pubblicità e direi che è perfetto è perfetto è perfetto questo esempio come guardate che grandissimo inception di roba che ipocrisia vabbè ciao è stato bello wired poi questa live per quanto riguarda le privacy policy dei social di whatsapp di telegram e robe varie tecnica questione tecnica questione legale bellissima molto interessante e microsoft che questa sono due notizie paurosi di microsoft che riesce cerca di aiutare gli insegnanti a capire come si sentono gli studenti su microsoft teams che cosa e poi ancora più che cosa questa un brevetto per creare un chatbot che imita le persone che sono morte una roba che che non so come commentarla perché vorrei capire solo il fatto di averla che dopo che l'hai pensata l'hai messa in atto c'è qualcuno ti ha detto sì fallo bene 5 funzionalità avanzate di telegram che ogni utente dovrebbe conoscere è inutile che fate di sì con la testa che le conoscete non le conosce nessuno impostare un proxy impostare un promemoria modalità lenta nei gruppi vabbè creazione di sondaggi però su telegram editing video su telegram insomma una cosa che vi consiglio di andare a vedere mailchimp con il benchmark e le statistiche delle industrie finalmente una cosa interessante non l'open rate generico ma per industrie quindi credo utile diciamo che queste sono le segnalazioni più interessanti vi invito ad entrare nel gruppo ma ora è arrivato il momento della nerdata della settimana vi è piaciuto un sacco quella scorsa e quindi ora in questo momento che vado a editare live qualcosa che non mi piace passiamo alla nerdata della settimana che è fatta da Fabrizio Ballarini che se non seguite seguitelo sapevatelo che è veramente molto bravo segnala una cosa facile e collegare ScrimiFog alle API di PageSpeed una volta che fa il crawling di tutte le pagine avete la possibilità di esportare i report per ogni singola cosa e quindi e quindi e quindi con pochi click sapere mandare al team sviluppo per esempio un report dice migliora questa cosa qui c'è il report fantastica questa nerdata grazie Fabrizio per le tue continue condivisioni e passiamo invece alla risorsa della settimana segnalata da grandissimo Gianluca Abadessa Passion Economy punto x y e z una raccolta fantastica per creator ci sono articoli profili video creator writers davvero una la degna risorsa per la risorsa della settimana quindi veramente veramente fantastico ecco con questo noi concludiamo la puntata di questo martedì e niente insomma così è andata bene una bella settimana tante belle notizie avete visto faremo sicuramente degli approfondimenti spero giovedì di far uscire il video e domani escono i video invece domani esce il video su creator pro per la classe road tu 10.000 mi trovate su telegram con fast forward ma poi mi trovate in altri due luoghi molto importanti che sono connect.gt dove la maggior parte di queste cose sono condivise e poi la mia newsletter se non volete perdervi mamma che brutto se non volete perdervi bruttissima scusate taglio non taglio è proprio brutto se non volete perdervi non vi perdete niente nella vita in genere lasciate stare segnalo gli articoli che reputo più interessanti le cose che faccio giorgio daverniti .substack.com che sta diventando un luogo veramente molto bello e infine visto che siamo arrivati alla fine alla fine la cosa che volevo dirvi è la frase da mettere nei commenti prima del vostro commento che è una frase semplice giusto che ci fa capire qualcosa a tutti quanti anche io pago le tasse in Italia anche io pago di volta al fatto che internet la pubblicità ha superato la tv abbiamo fatto un bel lavoro anche io pago le tasse in Italia ciao ci vediamo giovedì